C'è un'istanza di fallimento nei confronti dell'Unione Sportiva Rezzo, a presentarla è stato uno studio commerciale a retino che è concessionario del credito derivante dal decreto ingiuntivo passato e giudicato dell'agenzia investigativa Ombra Security nei confronti appunto dell'Unione Sportiva Rezzo. Si è rivelata sostanzialmente l'unica strada percorribile per poter arrivare a una definizione positiva del futuro dell'Arezzo e della società, quindi un'istanza di fallimento a cui farà seguito una valutazione, credo a questo punto la nomina da parte del giudice fallimentare di un commissario e di un liquidatore e quindi a quel punto la valutazione sulla esperibilità della gestione provvisuale. Che è quella che in linea tecnica può consentire oggettivamente il salvataggio del titolo sportivo e quindi della parte preziosa della società, quindi il mantenimento della categoria e il mantenimento del titolo. Ecco, cosa succederà adesso? Beh, adesso ripeto, il giudice del fallimento esaminerà l'istanza e procederà secondo procedura e quindi nominerà un soggetto che segue tutta la vicenda. Ci auguriamo che sia una persona che ha a cuore le sorti dell'Arezzo, questo dal mio punto di vista ovviamente, che nell'ambito delle procedure legittime e corrette comunque però si attivi per far sì che venga attivata questa gestione provvisoria, senza la quale non si è fatto niente. Però anche per l'esercizio provvisorio insomma ci vorranno dei fondi? Assolutamente, quindi giustamente la domanda non aveva completato la risposta. Io personalmente e anche insieme a dei collaboratori stiamo contattando vari soggetti, non molti devo dire, ma non perché non ci ne siano, ma perché quello che serve ora sono delle certezze. Quindi è inutile allargare il campo a tanti soggetti che poi magari fanno anche perdere tempo. Dei soggetti che con certezza e con sicurezza ci possano garantire quella che è la, diciamo, il sostegno economico della società per quanto attiene al debito sportivo. Perché è quello che da oggi deve, se la procedura provvisoria, di gestione provvisoria va avanti, deve essere mantenuto. Quindi devono essere pagati gli stipendi ai giocatori, devono essere pagati gli stipendi ai tesserati, per meglio dire, devono essere pagati i contributi sportivi e quindi tutto quello che ha a che fare con la parte sportiva. Se questo avviene perché c'è qualcuno che ci mette della risorsa, la società va avanti e continua a giocare, arriva in fondo al campionato. Sarà anche una fedegliuzione? La procedura di escursione delle fedegliuzioni, credo che appena è depositata l'istanza di fallimento o addirittura non appena il giudice l'avrà accolta, parte da parte della federazione, quindi c'è anche quella oggettivamente. Finisce così l'era Matteoni? Finisce così l'era Matteoni. L'era Matteoni termina improprio perché sì, in realtà lui ha incarnato la presidenza, ma di fatto la capitalizzazione non era la sua, era di altri, era di Neos e quindi di altri soggetti, apparentemente anche molto solidi che però non hanno dato, come dire, affidabilità nella gestione della situazione ordinaria. Ecco, questa mattina la decisione anche della Lega Pro di posticipare la partita della prossima domenica. Sì, questa è stata veramente un assist importante, io di questo devo ringraziare il segretario generale Francesco Ghirelli, che è molto simile nel cognome, che ha capito la situazione e che, ben comprendendo le difficoltà che ci sarebbero state anche domenica a giocare la partita, perché il problema degli steward, il problema degli animi esasperati da parte dei tifosi aretini, poi si vedono arrivare il Livorno e un derby, quindi insomma sarebbe stata una situazione veramente molto difficile da gestire. E allora ha fatto richiesta al presidente di un posticipo e abbiamo avuto la fortuna che è stata accettata, quindi credo che vada i primi della settimana, non la prossima, quella dopo ancora, se no ho capito male martedì o mercoledì. L'inizianza di fallimento da chi è stata presentata? Da un professionista che ha un credito nei confronti della società. Cosa ci sarà adesso nel futuro dell'Arezzo? Cosa ci potrebbe essere più speranza? Sì, però bisogna giocare. Lo snodo a questo punto è ritornato nella palla tonda. Io mi auguro che i giocatori e che l'allenatore accettino questa situazione, che ancora non è di certezza, ma è di incamminata su una strada positiva, fatemi usare questo termine ottimistico, per giocare, perché se non giocano è finito tutto. Cioè tutto questo sforzo, tutto questo impegno da parte di molti soggetti è completamente vanificato. Occorre giocare, occorre dimostrare che si è degli sportivi innanzitutto, fermo restando il loro diritto al credito del passato, del presente e di quello che potrà essere il futuro.